La gestione dei vaccini quest'anno è stata scandalosa, permettetemelo di dire, perché chiaramente non è nessuna colpa ai nostri referenti locali. La cosa è stata gestita malissimo a livello nazionale. Prima hanno fatto una grossa campagna dicendo a tutti di vaccinarsi, hanno detto che ce li avrebbero fatti avere addirittura, non dico a fine estate, ma quasi, alla fine ci siamo ritrovati con pochissime dosi di vaccino, con tutti gli appuntamenti, la maggior parte con i nostri pazienti saltati perché non avevamo vaccini. Noi medici siamo dovuti andare a fare la fila, a ritirare i vaccini, non una volta o due come succedeva gli altri anni, ma addirittura c'è chi ci è andato 6-7 volte e tutte le volte ti do dieci vaccini, te ne do quindici, te ne do venti, scontentando chiaramente i pazienti che erano in lista per essere vaccinati.